Nel capitolo 7 vi illustrerò quali sono i principali errori nella corsa, capiremo perché la maggior parte dei corridori li commette, vi spiegherò come fare a riconoscerli e riuscire ad evitarli. Dove sono le Hicks e quali sono gli aggiustamenti da fare? Troverete indicazioni per autovalutarvi e riprendere in mano il vostro stile di corsa.